La Regione Puglia dà il via alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti-covid per le persone over 60 e per i pazienti fragili dai 12 anni in su. Ascoltiamo. Le vaccinazioni anti-covid in Puglia non si sono mai fermate, ma adesso si apre una fase nuova con l'avvio della quarta dose per gli over 60 e per chi ha fragilità. Con queste parole il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, annuncia l'estensione della quarta iniezione di vaccino a chi ha più di 60 anni. Massima attenzione, ribadisce Emiliano, verrà data ai cittadini con fragilità per i quali il richiamo con la quarta dose è consigliato dai 12 anni in su. I centri specialistici di cura, aggiunge, daranno nuovo impulso alle chiamate attive per garantire le somministrazioni e promuovere anche sessioni vaccinali a loro dedicate. La Regione fa sapere che sul suo portale istituzionale si possono consultare le sedi vaccinali operative con gli orari di apertura. Allo stesso link è disponibile anche l'elenco delle farmacie divise per provincia. Il piano predisposto potrà essere aggiornato e potenziato in base alla domanda di vaccinazione da parte della popolazione, spiega il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro. Gli uffici sono costantemente al lavoro per monitorare l'andamento delle operazioni. Al momento si può accedere negli hub a sportello, precisa, ma per garantire la migliore gestione dei flussi di persone stiamo riattivando anche la modalità di prenotazione online, un servizio che sarà disponibile nei prossimi giorni.